Spingi bene, tira, tira, tira un po' di più, un po' di più, va bene, smaltisci e fai un pochino di quota, torna su. Si sta filmando. Sposta bene il peso, inizia a trazionare, traziona, ancora, 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 ancora di più, 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 niente, via, la sprizia è più forte della forza del dirai comando. Abbiamo un acceleratore incastrato, bravo. Eccolo, filma, eh. Tira, 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 tira un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, basta, esci pure. Va bene, non hai tirato abbastanza. Ricorda, se riesci a far arrivare la vela con un angolo vicino ai 45 gradi, è perfetto. Mano sulla bretella, sposta il peso, freno. Tira, tira, tira. Di più, 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 ancora, ancora, ancora. Vai, tienla. Ok. Cazzo, fai la sarte. È bene, no? Tiro, basta, io tiro via. Questa è il loop che gira e poi gira. Piano, figliolo, piano. Vieni a terra, vai se ne parla.